E' stata una partita combattuta però noi siamo riusciti a tenere testa e abbiamo portato questi tre punti che sono fondamentali per la nostra posizione in classifica e per la salvezza. Ti ce l'aspettavamo che era una squadra combattiva e si è vista durante la partita, sono stati bravi però siamo riusciti a portare questi tre punti. Esatto, quest'anno siamo una squadra anche di mentalità molto più forte diciamo e si è visto proprio verso la fine dei set che siamo riusciti a portarli a casa, anche sul 24 pari siamo riusciti a vincere. In questo momento dobbiamo vincere altre partite per riuscire a salvarci, anche al ritorno dovremo fare la stessa cosa che stiamo facendo l'andata e se lo facciamo ci sono buone opportunità di salvarci. Per me era una partita molto sentita e sono felice di aver potuto giocare dopo l'intervento e sono felice del risultato. Adesso mi sento pienamente recuperata, di sicuro non sono al 100% però un buon 90% lo sono rispetto a prima dell'intervento. Martina ha un problema alla spalla e speriamo che non sia niente di grave e nel frattempo io posso aiutare la squadra ad andare avanti. Sì, siamo riusciti a capire anche la mentalità per affrontare bene le partite e adesso siamo molto più decise e miriamo alla salvezza.